Reggina Cagliari, posticipo del sabato di Serie B, match valido per la trentesima giornata. Filippo Inzaghi schiera Reis, Canotto e Menes nel tridente con Maier, Crisetti che Fabiana comporre la linea mediana. Assenti Sion e Kericci. Claudio Ranieri si affida a Mancoso sulla trequarti alle spalle di Prelec e Lapadula. Oltre a Curfalidis, tornano tra i convocati Ciocci e Viola. Luvumbo, Roughe e Pavoletti restano ancora out. Al termine della prima frazione, il Cagliari torna negli spogliatoi avanti di due reti. A dominare la scena al granillo è stato fino ad ora Lapadula, autore di una doppietta. La regina fatica ad esprimere un palleggio di qualità, ma si divora almeno un paio di chance per il pareggio prima della rete del raddoppio siglata su rigore dalla Padula. I sardi dilagano nella seconda frazione legittimando quanto di buono aveva già fatto nel primo tempo. Gli uomini di Ranieri impartiscono una severa lezione alla regina, che subisce la terza sconfitta consecutiva in campionato.